Musica Ehi ragazzi, io sono Vale e vi do il benvenuto in questo speciale episodio di Nerdstorming Modern Review Perché dico speciale? Perché in questo episodio vedremo come spacchettare le action figure senza rovinare la confezione Ma veniamo gli strumenti di mio utilizzo Un coltello Un taglierino E una pinza Ma mettiamo da parte gli strumenti e prendiamo il pacchetto che mi è arrivato da Amazon proprio in questi giorni Così facciamo anche un mini unboxing Eccolo qua Spacchettiamo Qui abbiamo il robot shutter in forma aerea Direttamente dal film Bumblebee Ma andiamo a vedere la metodologia di spaccamento Spaccamento Spacchettamento Allora innanzitutto andiamo a tagliare lo scotch presente nella parte superiore Apriamo Facendo bene attenzione a non rovinare le varie parti Estraiamo E adesso viene la parte difficile Ecco come potete notare la figure è tenuta ancorata alla plastica trasparente tramite questi cavetti elastici Che tanti di voi taglierebbero tramite taglierino O coltellino A faccia del coltellino Invece noi cosa andremo a fare? Andremo a toglierli direttamente dalle sedi in cui sono ancorati Utilizzando La pinzetta Siccome hanno delle estremità a T Noi con la pinzetta prendiamo il centro E cerchiamo di infilarlo Dentro la sua sede Girandole E abbiamo fatto uscire il primo Utilizzando la pinzetta Questa operazione risulta essere molto facilitata Ed infatti Il nostro ammino è praticamente Estratto Dunque ragazzi come avete visto in pochi minuti sono riuscito ad estrarre il personaggio della sua confezione Senza danneggiarla Ormai sono anni che spacchetto action figure E quindi ho trovato una mia metodologia Non so se questo video possa esservi stato d'aiuto O se eventualmente avete già di vostro sviluppato una tecnica personale Nel quel caso vi esorto a scrivere sotto nei commenti e dire la vostra Sempre qui sotto trovate tutti i nostri contatti Facebook, Instagram, Podcast e chi più ne è più ne metta Vi rimando al prossimo episodio di Nerdstorming Stay nerd Stay young